Bianconeri, sulle salle! E' forte a Juve! La Juve è fede, amore e passione. Iscriviti allo Juventus Club Lizzano Bianconera. E' aperta la campagna del seramento 2020-2021. Divi con noi le emozioni che solo la vecchia signora sa dare. Ti offriamo questi vantaggi. Possibilità di richiedere abbonamento stadio. Priorità nella richiesta di biglietti e pacchetti Pullman più biglietto. Possibilità di vedere in tv per il Soul Club tutte le partite. Questi servizi, ovviamente, sono soggetti alle limitazioni imposte dalle norme anti-Covid. E ancora, possibilità di sconti su acquisto di articoli e materiale. Vieni a trovarci presso la nostra sede, in piazza Matteotti 22 Lizzano. Per contatti, Antonio 348 80 8 8 8 0 3 Cristian 349 68 000 66 Giuseppe 347 04 17 623 Non ti resta che diventare socio e gridare con noi, forza Juve fino alla fine! E ancora non ci basta!